Buonasera, questa sera la nostra trasmissione L'Isola Siamo Noi, in particolare lo spazio dedicato alla storia dell'Isola d'Ischia, si occupa di una figura, di un personaggio, di un artista ischitano molto importante che purtroppo ci ha lasciato da pochissimo. Adesso ne parleremo con Giovannino, ma poi continueremo a parlare di lui anche con i suoi familiari. Di chi si tratta? Si tratta di Antonio Macri, notissimo pittore ischitano, ma dire pittore ischitano secondo me significa limitarlo. Lui è un pittore universale che ha descritto l'Isola d'Ischia, che ha descritto in tutti i suoi momenti più belli, più tragici, più eroici, più tradizionali. E' stato un pittore che ha cantato l'Isola d'Ischia, ma lui era affezionato all'Isola d'Ischia, che guardava sempre con occhi dell'innocenza. Così come possiamo dire anche dei grandi pittori, voglio citare Giorgio Morandi, che descriveva la sua Bologna attraverso degli elementi semplici, addirittura delle bottiglie, delle blocche, dei piatti, dei bicchieri. Perché non è importante l'oggetto che si dipinge, ma è importante l'occhio che guarda questi oggetti, o l'occhio che guarda il paesaggio. E Antonio Magri guardava l'Isola d'Ischia come se fosse il mondo intero, e quindi lo guardava con occhio semplice, silenzioso e gentile. Lui era l'uomo del silenzio e della gentilezza, ed è andato via da Ischia nel suo modo consueto di vivere, così è andato pure e sparito. In silenzio, in butta di piedi, in silenzio e con gentilezza. E' sembrato quasi, io quando ho saputo la nulissima e parsima, mi sono ricordato di una poesia di un garetti, è sceso dall'albero come una foglia che viene mostra non dal vento, ma dal battito d'ali di un angelo. E' così, silenziosamente, caduto per terra, senza dare fastidio, come era nella sua natura. Perché veramente io posso dire che lui è stato per Ischia il genio della dolce malinconia. In tutti i suoi lavori, in tutte le sue opere, si respira questa dolce malinconia. Sembrano due termini antidetici, la dolcezza e la malinconia. Ma messi insieme danno il sapore proprio dell'armonia, danno il sapore del candore con cui uno si avvicina alla natura, ai paesaggi, ai soggetti di Ischia. Antonio Macri, era detto figlio di Calabrese, nato nel 1933, il padre faceva il ristoratore. E da giovane ha aiutato il padre nell'azienda familiare, però questa attività si trovava sul porto e quindi era frequentata da tanta gente, ma anche da artisti che venivano qui a Ischia. E lui ha conosciuto questi artisti e si è appassionato al loro modo di vivere, si è appassionato ai loro ideali, si è appassionato alle loro aspirazioni, ambizioni e quindi già da piccolo decise che doveva fare pure lui intraprendere l'attività, la missione direi quasi di pittore. E quindi da giovane si rega a Firenze dove fa un anno all'accademia, poi ritorna a Ischia e incomincia a dipingere e questo mondo della pittura diventa per lui un mondo dove far riposare e far vivere la propria anima. Certo, il lavoro di ristoratore è un lavoro molto, diciamo così, che ti porta a contatto con tanta gente, bisogna salire e scendere, preparare i piatti, pulire, eccetera. Però lui c'era costruito questo mondo suo dove, volentieri, si rifugiava e viveva e dava il meglio di sé. Difatti tutti quanti noi abbiamo qualche opera proprio di ricordo di Antonio perché l'abbiamo voluto bene, abbiamo apprezzato la sua sensibilità, abbiamo apprezzato la sua gentilezza, abbiamo apprezzato la sua capacità di non arrabbiarsi mai, la sua volontà ferrea di voler per forza costituire nella società degli elementi di pace. Io non l'ho visto mai alzare la voce, né per strada, né nell'albergo, né nella pensione, né in famiglia, ma è dappertutto. Era una persona silenziosa, ma silenziosa di parole, ma non di concetti. Perché? Perché lui ha espresso nei suoi quadri un mondo meraviglioso, ha espresso la sua isola, che amava immensamente, amava questa isola, andava a dipingere in ogni parte, sia d'estate, sia d'inverno, sia in primavera, sia col sole. In certo qual senso lui è molto simile al pittore e impressionista Monet, che dipingeva lo stesso soggetto a tutte le luci e a tutte le stagioni dell'anno, perché gli interessava vedere questa luce che modificava, modellava, accarezzava le forme, gli oggetti, le chiesi, i paesaggi, i fiori, i prati. E lui ha fatto la stessa cosa. E di fatti vediamo che nei suoi quadri ci sta tutta una serie di colori. Poi ce lo spiegherà molto meglio di me il figlio Bruno. E veramente noi abbiamo la possibilità di intravedere una tavolozza dai colori differenti, dal crigio al rossa, al blu, al giallo, però sempre con un spiccato senso di dolce malinconia, perché questa era la sua caratteristica. E così lo voglio ricordare come pittore del silenzio, che ha gridato il suo silenzio, ha gridato al mondo, a Ischia, la sua grande volontà di amare Ischia. Io mi ricordo solo, e qua concludo, ricordo una mostra che facevamo con Carolina Monti all'atore dell'orologio Ischia-Monte. Lui era felicissimo di fare questa personale e mi ricordo che ci facevamo una bella fotografia all'interno della torre e all'esterno ci avevamo, si vedeva tutta la piazza, via Luigi Mazzilla ed era la festa di San Giuseppe. Quindi si vede tutta la gente che andava in chiesa, l'illuminazione. Questa foto bellissima, che è ancora conservo, che abbiamo pure prestato alla chiesa quando hanno festeggiato i 150 anni della fondazione della parrocchia. Tutti i parrocchiali dovevano dare qualcosa e io ho dato la fotografia di Mia con Antonio. E lui era proprio felice, era stracontente perché aveva la possibilità di far vedere i suoi quadri agli schitani. Anzi, la singolarità che mi hanno poi raccontato è stata quella di aver venduto tutti i quadri già prima dell'inaugurazione. Quindi era una cosa che succedeva, accadeva solo a Picasso e a qualche altro piccolo. Perché lui era schivo, forse per questo. Era schivo, forse cercavano di comprarselo prima perché poi pensava che non l'avrebbe venduto perché probabilmente era affezionato i suoi quadri. Perché sai come sono, i pittori molto spesso considerano i quadri i propri figli, quindi nessuno vende i propri figli. Quindi uno rimane molto affezionato, ma non per attaccamento alla cosa, ma per amore e per affetto verso il risultato di questa loro creatività. E siamo con la signora Teresa che è stata la moglie, la compagna di vita di Antonio Macri. Per quanti anni signora? Sono 60 anni sposata, 60 e qualche cosa sposata. E poi 9 anni che ci lasciavamo, ci vogliavamo così, una vita intera. È stato quindi, insomma, all'inizio un fidanzamento un po' più, come dire, movimentato. Come l'avete conosciuto voi? Io abitavo a San D'Alessandro, lui qua al porto, in Chies, lo conobbi una sera di Natale. Lo conobbi e da allora... È scoppiata la scintilla, cupido. Allora, che cosa significa, diciamo, essere stata la moglie di un artista? Perché penso che un artista poi ha questo suo mondo interiore, quindi magari ha bisogno anche... Mi sapevo che mio marito fosse amato da tanta gente, è quello che ha avuto proprio una cosa... Lui doveva... Era felice quando dipingevo, quando se ne poteva andare, mi lasciavo con i figli e lui doveva dipingere, dipingere, dipingere. E quando usciva, prima lui pigliava il cavalletto e andava sul posto, invece poi adesso aveva... Un altro forse non ce la faceva più, doveva dipingere, dipingeva non dal... Non dal vero, insomma, ovviamente aveva visto tante cose dell'isola per cui conservava dentro di sé questo ricordo. Lui parlava mai con voi, diciamo, della sua pittura? Sì, e lui... La pittura era... Prima i figli, poi la pittura. Che cosa diceva della sua pittura? Vi ricordate qualcosa, un aneddoto? Non è... Lui è stato sempre molto, molto... Non parlava troppo, non... Insomma, non si esponeva a dire sono bravo, non sono bravo, non... Questo no... Dipingeva, si metteva lì e... Insomma... Voi vi ricordate più o meno come dipingeva, se per esempio era metodico oppure gli venivano, come dire, le ispirazioni momentane? Sì, sì, sì... Così, era proprio che venivano... Si faceva uno schizzetto. Lui ogni quadro di questo qua l'ha finito in un giorno solo, perché l'indomani non... 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 Toccava più il quadro. In un giorno solo i ritratti, tutto. Dipingeva di getto, quindi? Sì, è così. Si poteva disturbare l'artista mentre lavorava, oppure no? No, 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 no. Io quando veniva qualcuno, non lo portavo sopra a vedere, a vedere mentre lui dipingeva, lui non voleva essere disturbato. E anche da voi della famiglia? No, no, nessuno doveva disturbarlo perché era fatto così. Si vede che quando pensava una cosa la doveva fare e basta. Ma voi parlava poi la sera oppure dopo che aveva finito questo lavoro? Stanco e poco, insomma, non è che ogni quadro... E poi quando andava invece a dipingere così per la natura? Quando andava fuori, lui era felicissimo perché, non lo so, forse aveva più spunto, più... Quello che... Insomma, era... Andava di mattina presto? Si faceva la borsettina, si pigliava il cavalletto, che non so adesso dove sta, e se ne andava una volta a Foriglio, una volta a Sant'Angelo, una volta a tutta l'isola, insomma. Poi ha finito di andare col cavalletto o perché era stanco o che... E cominciava a dipingere così. E chiedeva il vostro giudizio poi? No, 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 io lo guardavo, dicevo è bello, ma lui era contento lo stesso perché mi vedeva che ero contenta del quadro che aveva fatto, insomma. Che cosa vi ha lasciato vostro marito? Mi ha lasciato... No, che cosa vi ha lasciato da un punto di vista ovviamente spirituale? Che cosa vi resta di lui, a parte il ricordo, diciamo, nostalgico di aver avuto... Troppo, troppo buono, troppo, troppo, troppo buono, troppo... Tutto il vicinato non l'ha mai sentito, né una critica, niente, niente, fino all'ultimo, proprio troppo bravo, troppo bravo. Di fatti io non sapevo che mio marito fosse amato da tanti. E vogliamo proprio entrare all'interno di quella che era proprio la famiglia di Antonio Macri. Abbiamo con noi Pino, che è il figlio maggiore. Che cosa ricordi di papà, ovviamente, dal punto di vista artistico? Poi parliamo anche un po' del suo carattere. Allora, di papà, dal punto di vista artistico, è tutto da collegare proprio a com'era lui come uomo, in effetti. La cosa è ancora fresca, chiaramente, da metabolizzare ancora, quindi tutti noi di famiglia, insomma, abbiamo difficoltà, proprio, quasi, a dire la parola a papà, perché ci porta ancora a una commozione enorme. E papà, in effetti, ha dipinto nell'arco di 60 anni, ha solo lavorato e dipingeva. Si ritagliava il suo tempo solamente per dipingere. Questa è stata una cosa che, all'improvviso, ci sono venute in mente tante cose, nel senso che lui non aveva nessun altro tipo di hobby. Aveva questo amore proprio sviscerato per l'arte, per la pittura. E da quando era ragazzo, insomma, conoscendo, quando all'inizio c'era in una trattoria dal Calabrese sul porto, ha conosciuto, insomma, è stata un'epoca feconda di artisti a Ischia. E Gilles, Lelofiù, ha conosciuto Purman, che è stato nella nostra locanda per anni e anni, insomma. E gli è scoppiata questa scintilla, insomma, sta amore di dipingere. Ma la cosa, veramente, cioè lui non ha fatto altro che questo. Diciamo che se fosse stato libero da impegni così economici si sarebbe tuffato, come dire, capa e piedi proprio, totalmente nell'arte. Sì, assolutamente. Perché in effetti, all'inizio, vabbè, ha dipinto l'aria aperta con il cavalletto, eccetera. Poi dopo ha avuto un periodo dove predominavano, per un lungo periodo, i quadri grigi, diciamo, tra virgolette denominati chiaristi, così, come luce, perché era un periodo un po' triste. Cioè, noi la vedevamo così ed è uscita fuori tante volte questa cosa. Lui l'ha lavorato tantissimo, perché era un periodo che si lavorava tanto a Ischia, insomma. E appena poteva, voleva dipingere. E quindi erano soprattutto i periodi invernali che sfruttava per dipingere. Allora, in quei quadri, un poco, quelle albe, quei tramonti di Ischia che si vedono, molto significativi della sua opera, insomma. E poi... Ti ricordi, quando eri piccolo, entravi nello studio di tuo padre, questo odore di colori? Sì, allora, l'odore dei colori non ci ha lasciato mai. La trementina, i colori, le tele che preparava, è stata una cosa che ci ha proprio... Perché lui in ogni parte si è trasferito due o tre volte come casa, eccetera, si creava il suo studio. Si creava il suo studio e là era, come diceva, ma pure era sacro, insomma, aveva solamente colori, eccetera. Però, dicevo, dopo questo periodo, insomma, che si può definire invernale, eccetera, dopo sono venuti questi quadri colorati, questi blu, arancioni, eccetera, quando ha avuto più tempo per dipingere. Quando, insomma, ha un po' lasciato l'attività. E purtroppo è durato poco questo periodo, così, in più tempo. Sì, mi ricordo quando dipingeva, quando eravamo proprio ragazzi, che lui si pigliava le vacanze 15 giorni, mi pare, e andava un po' a fuori io, un po' da tutte le parti, e ci portava pure a noi dietro, insomma. Non sempre, ma andavamo a dormire con lui, insomma, a fuori io, spesse volte, almeno mi ricordo questi particolari. E poi andava a San Francesco, insomma, e mamma rimaneva qua, in poco vero. Era bello stare con lui in giro? Sì, e lui non parlava, sicuramente era bello, però non estrapolava, insomma, non diceva tante cose. Veramente, insomma, bisognava conoscerlo per sapere esattamente com'è. Però questo non vuol dire che, insomma, nel silenzio voi da piccoli non abbiate gioito di stare con lui, insomma? Questo è proprio fuori di dubbio, proprio. L'abbiamo gioito in tutto. Vi dava mai una matita, qualcosa, per giocare? Sì, lui era orgoglioso di noi, perché quando eravamo piccolini, sia io che mio fratello abbiamo fatto pure qualche mostra, così, eccetera. E lui spingeva, diciamo così, per farci continuare. Però queste cose così, poi dopo alla fine, insomma, non ne ho fatto pure un po' di scuola d'arte, però non mi ci ritrovo. Cioè, nel senso che lui era un artista a tutto tondo e la purezza dell'arte, cioè, torno a ripetere, ha fatto solo quello e solo quello voleva fare. Invece noi siamo distratti da tante altre cose, eccetera. Sì, lui, sì, ci ha sempre messo colori, matite. In mano. Allora, io credo che avere un padre che fa l'artista e poi anche scoprire un'interiorità di un padre che, come dite voi tutti, non parlava molto. Diciamo che di fronte a questi quadri voi un po' avete dovuto risolvere un enigma, credo. Quale enigma? Nel senso di scoprire di che si tratta? No, perché comunque lui era così. Noi, appena è finito, è stata una cosa un po' di tutti quanti, ci siamo resi conto all'improvviso, a parte della perdita, che non l'abbiamo mai sentito alzare la voce. Il tono di voce, non la voce, ma con noi come con altri, in famiglia, in famiglia si vive tutta una vita, insomma, in famiglia non è possibile, screzzi, cose, cioè, è sempre stato proprio così. E poi mi sono ricordato una cosa che gli ho detto ieri a Bruno, mio fratello, che tra l'altro l'ha messo pure là nel quadro, ecco lì, che c'è quella botticina vicino. Mio figlio, c'era una decina d'anni, con la spada di Godzilla, non so che cosa, scendendo le scale, quando lui c'era lo studio dall'altra parte, bucò quel quadro. Lui scese da sopra, dalle scale, e vide questo quadro, non disse niente, si alzò un po' le spallucce, preso il quadro come un figlio, così, e se lo portò sopra, senza dire nemmeno una parola, nemmeno un rimprovero, niente, proprio una cosa. Eppure invece lo siamo ricordati da poco, insomma, questo particolare. Cioè è un quadro o un periodo artistico che tu ami di più di tuo padre? Sì, ci stanno, diciamo gli anni 80, 75, 80, ci abbiamo pure pochi quadri di quel periodo là. Sono dei quadri, una decina di quadri che fece sul verde, molto carichi, che quelli li ha regalati o venduti quasi tutti. Mi pare ce n'abbiamo uno o due solamente, anche quelli tipo così del 75, molto veritieri, eccetera, che secondo me ha un tratto eccezionale, perché all'inizio è stato definito un naif, un naif ricercato, eccetera. Cosa che secondo la mia idea assolutamente non è, perché c'è una ricercatezza nei suoi quadri che è spaventosa, cioè è una cosa unica. Anche perché poi alla fine, quando lui ha fatto una ricerca, e io parlo di ricerca di quei quadri grigi, per esempio così, che è durato molto nel tempo, il quadro doveva iniziare e finire nella stessa giornata. Ed era una cosa difficilissima. Perché doveva iniziare e finire nella stessa giornata? Perché dipingeva fresco su fresco. Allora non doveva uscire fuori un particolare il giorno dopo, se no era sovrapposto, si vedeva e non aveva più significato per lui. Quindi dipingeva una giornata intera e era molto pesante per lui. Abbiamo parlato, parlato, come dicevamo prima, le parole a volte non possono spiegare quello che invece in maniera molto più diretta dicono le immagini. Ci troviamo proprio nel spazio espositivo di Antonio Macri, in compagnia di Bruno, che è un altro suo figliolo. E con lui percorreremo un po' questo spazio in modo da conoscere anche un po' le varie fasi pittoriche di papà. Allora cominciamo da qui. Allora in questa stanza abbiamo raccolto oltre 60 anni di attività artistica di mio padre. Abbiamo disposto le opere in un ordine cronologico. Quindi partendo da qui abbiamo un po' le sue prime opere datate intorno agli anni 50. Come diceva mia madre, i primi anni della sua attività erano soprattutto dedicate alla pittura dal vero. Quindi i suoi luoghi preferiti erano due fondamentalmente. Il portodischia dove lui era nato e Forio a cui era legato particolarmente, diciamo, oltre che per ragioni, diciamo, d'amore. Perché sua moglie è foriana, insomma, è mezzo foriana. Anche perché Forio all'epoca, intorno agli anni 50-60, era un po', diciamo, il cenacolo artistico dell'isola. E intorno, insomma, a questo cenacolo così si raccoglievano molti suoi amici. Vito Mattera, ad esempio, Peperone, Gino Coppa, Mariolino Capuano. Ma, insomma, questo periodo, diciamo, di pittura dal vivo dura fino alla fine degli anni 70, diciamo, passando per vari momenti. C'è un periodo molto scuro, che vedete lì in alto. E' un periodo più vivace che questo qua che abbiamo mostrato prima. Lui spiegava il passaggio, ti ha mai spiegato questo passaggio? No, questo no, perché, diciamo, non ne abbiamo mai chiesto, abbiamo solo assistito, diciamo, in maniera passiva a questa sua evoluzione, diciamo, pittorica. Quindi lui, diciamo, che ha elaborato una, insomma, una sua tecnica, una sua, come dire... Anche varie tecniche, perché poi lo vedremo che, diciamo, sposterà un po' l'attenzione su, anche su altre, un'altra tipologia di tecniche. E questo, volevo sottolineare, questo passaggio, diciamo, dalla pittura dal vero a quella, diciamo, chiusa nel suo studio. Mia madre la debita al fatto che mio padre, magari era anziano, ma non è così, in realtà. Perché parliamo degli anni 70, mio padre aveva poco più di 40 anni, insomma, quindi non era assolutamente, era ancora molto in forma. E questo passaggio, secondo me, è dovuto a un fatto fondamentale. Lui non riconosceva più la sua isola come l'aveva vissuta fino ad allora. Cioè, Ischia iniziava a cambiare e quindi lui non si riconosceva più e si è rifugiato nel suo studio e quindi ha prodotto, diciamo, ricordando come era la sua isola e un po', diciamo, trasformandola, rielaborando. È bella questa cosa che hai detto, Bruno, e anche perché si riaggancia con ciò che diceva prima Giovannino di questa dolce malinconia. Infatti qua vediamo un'evanescenza in queste pitture degli anni 80, mi sembra di scorgere dalla datazione. È un periodo piuttosto lungo, che dura intorno ai dieci anni, insomma una decina d'anni, in cui i colori, diciamo, diventano molto più tenui, quasi, diciamo, evanescenti, come tu hai detto. Per un periodo che è stato molto apprezzato, diciamo, infatti di questo periodo ci sono rimasti pochi pezzi, perché il resto, diciamo, sono nelle case di tanti suoi estimatori. Soprattutto di questo periodo, anche perché, diciamo, i colori così tenui, pastello, qualcuno, insomma, li prendeva quasi alla stregua, diciamo, di un oggetto d'arredo. Dice Sass, va bene. Avevano un effetto decorativo. Per rane, quindi, diciamo, questo non è molto... Sono visti come un... non è lusinghiero, però va bene, comunque, insomma, ognuno ha il suo approccio estetico all'opera d'arte. E qua c'è questo quadro che mi incuriosisce particolarmente, perché è vero che è evanescente, però mi sembra che, diciamo, il tema sia abbastanza drammatico. Tutti e due, diciamo, sia quello del porto sconvolto, diciamo, da questa tempesta, sia l'alto, diciamo, descrivono scene un po' apocalittiche. E quello... sottolineano proprio questo suo amore e, come dire... E un po', diciamo, un po' di rabbia c'era, dai. Verso la sua isola, no, che praticamente perdeva quella genuinità, quella virginità, diciamo, che lui aveva vissuto. Dipingere lo stesso oggetto, lo stesso luogo, mille e mille volte, ma sempre con uno sguardo diverso, diciamo così, un esercizio anche un po' di stile. In questo caso c'è il faro, che era appunto la sentinella del porto che papà guardava. Sì, diciamo che lui ha dipinto molti temi, diciamo. Il faro era uno dei temi su cui ha lavorato di più, probabilmente. Quindi lo vediamo un po' in tutte le fogge, diciamo, anche in diversi periodi. Questo è un periodo ancora risalente agli anni 80-90, mentre qui, diciamo, sono opere un po' più recenti. Quindi sono del 2000 e oltre, praticamente. E quindi si può vedere, insomma, vari stili, però lo stesso tema affrontato, diciamo, in maniera completamente diversa. Volevo sottolineare questo faro qui, praticamente, vedete il mio dito, quindi in proporzione. Cioè, sostanzialmente lì è proprio una pennellata, diciamo, che però riesce a riprodurre, praticamente, l'oggetto in maniera immediata. Non solo, ma poi, se no, ti sembra quasi come se ci fosse un dipinto di fondo oppure un affresco e poi sia stato scoperto grattando il muro. Sinceramente, anch'io l'ho scoperto da poco che era un faro, sinceramente. Seguendo quelle che sono le pitture di un artista, si può vedere anche il cambiamento umorale. Dopo l'evanescenza degli anni 80 e i colori degli anni 70, qui abbiamo un tono piuttosto cupo, ma anche il tema che il pittore dipinge ha qualche cosa di, diciamo, abbastanza drammatico rispetto alla solarità dei primi quadri. Certo, su questa parete sono tutta una serie di studi sul tema dell'Isola dei Morti. Il celebre dipinto, diciamo, di Beklin, che pare sia ambientato sull'Isola d'Ischia. Quindi, questo periodo rompe completamente con il passato, diciamo, perché c'è un cromatismo molto acceso, molto, insomma, evidente. E si è scurito il tono? Sì, diciamo, scurito no, perché poi ci sono dei rossi, dei gialli, come vedremo più avanti. Diciamo che il colore diventa predominante, insomma, rispetto al tema. Quanti anni aveva, più o meno, tuo padre quando dipingeva così? Ma qui siamo nel 2012-2011, quindi, insomma, risale, mio padre già aveva 70 anni, più o meno, insomma. Quindi sono, diciamo, le opere della maturità. Si può, diciamo, anche vedere una riflessione sulla morte, la sua morte? Che dici, visto che, insomma, non era più giovanissimo, magari si affacciava all'idea? Ma non credo, perché mio padre aveva, diciamo, un rapporto con la vita molto positivo. Cioè, nonostante sia un artista, diciamo, con tutti i suoi drammi interiori. Però il suo... anche perché, diciamo, che fino a, insomma, qualche tempo fa, poi purtroppo la malattia l'ha portato via, godeva di ottima salute, ma fondamentalmente amava la sua famiglia, amava la pittura soprattutto. Per lui, diciamo, dipingere era tutto, per dire, quindi assolutamente non credo che... Era un tema che lui... Era un tema come un altro. ...affrontare, diciamo, sì, come un faro oppure un altro tema. Anche, diciamo, un percorso dal totale al particolare, sembra quello che caratterizza, diciamo, la pittura di Antonio Macri. Perché mentre all'inizio abbiamo visto c'è il paesaggio in tutta la sua interezza, poi, mano a mano, l'attenzione si focalizza sui particolari. Qui ci sono, per esempio, dei personaggi, bimbi che giocano, e pescatori nel loro silenzio, nella loro, diciamo, meditazione. Sì, sempre, diciamo, sono temi su cui lui ha lavorato tantissimo, sempre in studio, diciamo. Poi considera che tutto questo che noi vediamo è il frutto, praticamente, di una realizzazione dei disegni. Lui disegnava tantissimo e addirittura riprendeva disegni magari degli anni 70, degli anni 60 e poi li riproduceva a distanza di 40 anni su tela. Cioè, un tema, diciamo, anche recente su cui ha lavorato tantissimo è quello della natività, diciamo, con gli zampognari, con, ad esempio, una fuga in Egitto, praticamente un po', diciamo, ambientata in un paesaggio mediterraneo. l'annunciazione, insomma. Questi sono temi che, tra l'altro, lui, diciamo, fondamentalmente era un laico, però ha lavorato tantissimo sul tema sacro, diciamo. Sembra... Perché fa parte, comunque, della nostra cultura. Non possiamo certo metterla da parte. E lì possiamo vedere proprio le prove della sua abilità grafica, perché lì sono solamente disegni, lì è tutta matita, giusto? Sì, sì, quelli sono disegni su tela. Sì, non sono degli schizzi, già hanno una definizione ben diversa da uno schizzo. Cioè, non può essere assimilato decisamente a un quadro. Ci sono una serie di castelli, zampognari, scene di pesca, e, insomma, quelli sono i suoi soggetti preferiti negli ultimi anni. Terminiamo il nostro percorso con questo tipo di figurazioni di quadri. Vediamo che in basso ci sono ancora dei temi sacri, perché ci sono delle processioni, e anche comunque queste con una certa sospensione metafisica, come si dice, nel senso che non c'è più, diciamo, nessun collegamento storico, e poi con tanti ritratti, tra cui anche qualche autoritratto. Sì, le processioni più che del tema sacro appartengono, diciamo, ad un tema popolare, perché fondamentalmente esprimono proprio questa, diciamo, essenza popolare. Poi sopra, invece, sono tutta una serie di piccoli ritratti che sono, diciamo, dei volti di contadini, pescatori, gente del comune, diciamo, isolana fondamentalmente. In alto, invece, sono dei suoi ritratti piuttosto datati, quindi parliamo della fine degli anni Cinquanta, che risentono ancora, diciamo, della sua formazione accademica, diciamo, lui è stato a Firenze e all'Accademia, quindi si vede ancora un tratto un po' scolastico, diciamo. E invece qui in basso sono le sue ultime opere, proprio i suoi ultimi oli, diciamo, già si percepisce che la mano non è più, insomma, ferma come lo era prima, insomma. Magari, voglio dire, poteva anche essere un effetto voluto. Che sono questi? Un bimbo con un pescatore con una piccola barca in mano? Comunque, diciamo, un po' la proporzione capovolta, no? Prima la barca è grande, ora è piccola. Sì, c'è un pescatore in un gozzetto, diciamo. In realtà quelle, le barche dei pescatori che lui aveva in mente erano così piccole, insomma. E qui invece sono delle figure sempre di pescatori con delle ceste, con dei pesci. Ah, ecco, quindi comunque è ritornato, diciamo, a quello che era il suo antico amore, cioè il portodischi e tutta la vita che ci correva attorno. A te ho fatto solamente, diciamo, parlare dei quadri. Ovviamente così, in conclusione, vorrei anche da te un ricordo di tuo padre. Beh, il ricordo di mio padre, diciamo, al di là, diciamo, dell'emozione che è ancora evidente, diciamo. Ci ha lasciato grandi valori. Noi siamo cresciuti in un ambiente dove la cultura, la bellezza era così palpabile, cioè si respirava in una maniera netta, chiara, diciamo, e ci ha aiutato molto nella nostra formazione. Ricordo, diciamo, con grande affetto i suoi amici che non ci sono più e quelli che invece, diciamo, erano di famiglia, diciamo, Massimo Ierasi, Giorgio Brandi, Michele Longobardo, Vito Mattera, ma tanti, tantissimi, Gino Coppa. Insomma, questo è un ricordo molto importante. importante.